Milan-Torino, il risultato per Gollo Predictor. È diventato il punto di riferimento della community di fantagiocatori di Corriere dello Sport. Fan, Gollo Predictor stima i gol attesi per le squadre, in decimale, e individua i quattro risultati esatti più probabili. Alle 20.45 scendono in campo Milan e Torino, i rossoneri devono uscire dalla crisi e più volte hanno mandato fuori strada gli scommettitori negli ultimi match perché questa riscossa tarda ad arrivare. Il Torino è in buona forma e viene dalla vittoria a sorpasso in casa con l'Udinese. Per Gollo potrebbe finire 2-0-0-1-46 anche se non potrà mai finire così perché i gol non si contano con i decimali. Nonostante ciò, grazie a questa stima il predictor del Corriere dello Sport ci indica i quattro risultati esatti più probabili. 1-1-2-1-1-2-2-2 Ne segue che la partita è da multico al 2-4 con 1-2 gol attesi per la squadra di casa e 1-2 gol attesi per la squadra ospite. L'esit più probabile è quindi gol. Da notare che per Gollo la quota del gol è di 1-51 mentre viene offerto a 1-93 ed è quindi conveniente giocarlo per questo match. Occhi anche all'Over 2-5 che viene pagato 2-0-4 dai bookmakers e che per Gollo vale la miseria di 1-49. Infine, per Gollo le quote del match per l'1-x2 sono, segno 1-1-99 contro 1-82 offerto dai book segno x-4-62 contro il 3-55 offerto dai book segno 2-3-55 contro il 4-54. Medio offerto dai book su gruppo Telegram di Gollo trovate le analisi dei match e le selezioni di Gollo per le giocate fan del weekend. Gioca for fun, vinci for real con i 40,000 euro di monte premi su www.corriere dello sportfan.